Si è tenuta presso la prefettura di Siracusa una riunione sulla disciplina della propaganda elettorale in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. L'incontro, voluto dal prefetto Giuseppe Castaldo, al quale hanno partecipato i rappresentanti dei comuni e le forze dell'ordine e le polizie municipali della provincia, ha avuto luogo per assicurare l'ordinato svolgimento della campagna elettorale. Una particolare attenzione è stata apposta alla disciplina riguardante le modalità di svolgimento dell'attività di propaganda, quali l'affissione di stampati, giornali murali e dei manifesti e sulle modalità di svolgimento dei comizi. Sono state illustrate le principali prescrizioni imposte in materia delle normative vigenti, nonché dal Ministero dell'Interno con apposite istruzioni diramate. Grazie.